salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con lombardia notizie online oggi con noi l'assessore stefano bolognini assessore ai giovani alla comunicazione e allo sviluppo della città metropolitana di milano buongiorno assessore buongiorno pier buongiorno a tutti ben trovati perché questo appuntamento con l'assessore stefano bolognini perché oggi qui a palazzo lombardia è stato lanciato meglio rilanciato un progetto molto importante il bando lombardia e dei giovani un progetto che riguarda ovviamente lo dice il titolo stesso le nuove generazioni per cercare di coinvolgerli ed essere sempre più protagonisti dell'attività quotidiana della regione lombardia e quindi del nostro territorio assolutamente sì lombardia e dei giovani è uno dei tanti bandi e tante iniziative che la regione lombardia mette in campo per i giovani perché attivino percorsi di intraprendenza di autonomia perché si possono sentire protagonisti del loro tempo delle loro comunità del loro ecosistema è un bando decisamente importante perché riesce a motivare coinvolgere un altro numero di giovani nel 2019 nel 2020 dobbiamo ancora fare diciamo le statistiche però 2019 oltre 150 mila giovani hanno partecipato ad alcune delle iniziative che con questo bando si sono realizzate iniziative che vanno dall'inclusione all'arte alla cultura al contrasto di espressione scolastica alle tecnologie digitali e nuove tecnologie davvero tutti gli ambiti qui un giovane vediamo adesso alcune immagini si possa realizzare secondo quelli che sono i propri stimoli le proprie formazioni la propria esperienza ecco questo che vediamo poi lo diranno bene i ragazzi che questa mattina erano presenti è un murales realizzato da alcuni giovani della brianza un murales che rappresenta alcuni dei simboli di monza dal duomo all'aringario alla regina teodolinda con la sua corona e la cosa bella è che lo hanno voluto realizzare giovani spesso anche provenienti da altre regioni o da altre nazioni che però attraverso questi simboli riscoprono e raccontano la storia della città monza che li ha accolti anche con forme innovative ha voluto fare un murales che rappresentasse la città che li ha accolti dove vivono dove studiano dove hanno una famiglia ed è davvero molto molto bello e poi lo ripeto i giovani dove sentirsi protagonisti noi facciamo la cornice poi il quadro lo fanno loro cerchiamo di stimolarli perché tirano fuori tutto quello che hanno da dare e come ha ben detto questa mattina il presidente e i giovani della lombardia hanno dato tanto e hanno tanto da dare ecco l'assessore bolognini citava il presidente attilio fontana che avete visto anche nelle immagini che scorrono oggi era presente alla conferenza stampa che ha lanciato il nuovo bando lombardia è dei giovani e quindi ascoltiamo cosa da dire il presidente attilio fontana sono stati molto bravi hanno partecipato a questo bando dimostrando fantasia dimostrando voglia di partecipare dimostrando interesse per realizzare interventi che possano consentire a loro di trovare una via verso la normalità credo che mai come in questo periodo i giovani siano stati penalizzati da questa situazione tremenda e quindi penso che ogni iniziativa che vada a loro favore sia assolutamente ben accetta e auspicabile a loro dico grazie a tutti quelli che hanno aderito alla vaccinazione forza quelli che non hanno ancora aderito e oltre all'appello del presidente fontana per le vaccinazioni importantissimo anche l'appello ai nostri giovani ad aderire a questo bando sì assolutamente sia attraverso i comuni attraverso le associazioni organizzazioni del territorio però lo stimolo anche attraverso una pagina instagram di qui tra poco parleremo è quello di sentirsi protagonisti di vedere regione bombardia come una sponda come un aiuto a realizzare i propri progetti i propri sogni poi che siano progetti digitali abbiamo visto che trattina dei video straordinari che siano arti figurative pittoriche che siano questa ragazza che vediamo adesso lo stavo per dire che chi parla adesso con te pierre è una ragazza di erba che ha fatto un progetto intanto per l'orientamento scolastico e universitario dei suoi coetanei ma soprattutto per formare i giovani a creare associazioni e organizzazioni con le quale realizzare i propri progetti quindi diciamo una formazione orizzontale da giovane verso i giovani per dare a loro gli strumenti per realizzare i progetti le idee i sogni i desiderati in cui credono e davvero molto molto belli giovani l'ha detto bene il presidente hanno una voglia di vivere il presente in particolare dopo lockdown sta ordinaria stanno dimostrando grandissime doti grandissima te noi siamo il presente di un passato e creiamo il nostro futuro meraviglioso slogan che hanno creato proprio i giovani di questo progetto che del comune di monza e di altri comuni della brianza ecco noi li aiutiamo un po a orientarsi rispetto a questi temi a questa voglia di essere protagonisti però davvero stanno dimostrando cose eccezionali molti vedono i giovani in quelle immagini della darsena delle con il san lorenzo di milano che non sono esattamente positivi a noi invece con la regione lombardia lo ripeto l'ho detto oggi fontana piace invece vederli come protagonisti del loro tempo del loro comunità con tanti diciamo esempi di virtuosismo anche sulle vaccinazioni l'ha detto oggi il presidente fontana i giovani hanno risposto in maniera straordinaria magari perché sono anche più ravi con lo smartphone in un secondo si prenotano però alla campagna di vaccinazione ed è fondamentale per un ritorno loro e di tutta la regione tutto il paese alla normalità tra l'altro molti di questi progetti si sono realizzati durante la pandemia anzi in alcuni casi sono stati lo strumento con cui i giovani costretti a lockdown hanno potuto comunque attivare delle relazioni e quindi aprirsi con i loro cotanei e tenersi in contatto quindi davvero le ricadute positive sono davvero straordinarie e quindi abbiamo visto per esempio quel quadro che è una riproduzione di un murales effettuato da questi ragazzi di monza ascoltiamo i protagonisti della realizzazione di quest'opera che state vedendo partendo da anni ea migliorati che non è il vero e proprio protagonista perché nella logica appunto di coinvolgere tutti e non escludere nessuno questo ragazzo era un tirocinante perché voleva imparare e capire per esempio in che modo si riusciva a dipingere o in che modo si poteva progettare un'opera come questa in questo progetto ho avuto modo di osservare i ragazzi nello svolgimento appunto di di queste opere ho osservato come hanno agito gli educatori e ho potuto constatare la la passione che hanno messo i ragazzi nel realizzare queste queste opere e come l'arte sia un mezzo appunto per riuscire a far emergere delle delle emozioni che a volte possono rimanere all'interno e possono essere dannose per per la creazione della personalità dei dei ragazzi ecco da un tirocinante passiamo invece a una protagonista a una chiamiamola progettista di quest'opera si chiama onei e ascoltiamo cosa ci ha detto stamattina abbiamo lavorato sul progetto giovani in villa creando questo murales in cui volevamo valorizzare i simboli del territorio di monza quindi abbiamo fatto questo murales disegnando alcuni monumenti come vi siete documentati e abbiamo un po' cercato diciamo siamo entrati nel territorio tipo siamo entrati nel territorio cercare i simboli che caratterizzano monza ecco assessore bolognini il territorio il territorio è un punto di partenza il punto centrale della partenza del suo progetto della nuova veste di assessore ai giovani e ieri da milano è partito quello che definiamo un tour tra tutte le province per andare a cogliere proprio da questi giovani dai protagonisti quelle che sono le loro esigenze e quella che è la loro volontà per cerchire di essere sempre più protagonisti assolutamente sì ieri siamo andati noi sul territorio a incontrare giovani a stimolarli perché davvero si sentano ancora più protagonisti del loro tempo della loro città della loro comunità oggi invece li abbiamo portati dentro la regione lombardia la ragazza straordinaria questa ragazzina che ha parlato adesso che ci ha dimostrato anche con la luminosità e le spese sui occhi la gioia e l'emozione di essere oggi il nostro palazzo ci raccontava questa mattina che è la prima volta che entra nel palazzo di regione lombardia quindi sia portandoli fisicamente dentro il palazzo come è capitato questa mattina è stato bello anche vedere l'emozione che hanno dimostrato questi ragazzi durante la conferenza stampa sia andando a incontrarli in modo orizzontale sul territorio ieri a milano e a gallarate nelle settimane scorse a monza ea cinisello balsamo e poi ancora nei prossimi giorni in altre province della lombardia l'importante è ingaggiare i giovani e da loro un ulteriore stimolo hanno già tantissima energia noi cerchiamo di stimolarne ancora di più le risposte sono davvero straordinarie e poi mi piace molto il fatto che come era anche negli indirizzi del bando ci sia una forte attenzione alla storia all'identità le tradizioni la cultura dei propri paesi dei propri comuni delle proprie comunità e che i giovani sanno reinterpretare scoprire reinventare anche o raccontare con tecnologie con modalità che sono quelle proprie di giovani quindi la storia la tradizione alcuni casi anche di qualche secolo fa che viene tradotta e realizzata e raccontata con le tecnologie moderne con linguaggio di giovani cosa molto molto bella soprattutto come se nel caso dell'ultima ragazza che che abbiamo visto questo avviene addirittura per da parte di ragazzi o ragazze che qui non sono nati quindi non hanno il nonno che racconta io tanti anni fa andavo alla filanda ma che attraverso una conoscenza e una voglia di conoscere il luogo in cui si sono trasferiti in cui studiano crescono hanno una famiglia lavorano passano il loro tempo libero ecco se ne impossessano lo conoscono l'amano e poi lo raccontano il fatto che siano ragazzi di provenienza straniera a raccontare i simboli del nostro territorio lo ritengo davvero un esperimento straordinario ecco ci avviamo alla chiusura di questo appuntamento ma ancora due riflessioni importanti la prima siamo nella nell'epoca social non possiamo prescindere dal quello che anche il mondo virtuale della rete e quindi per favorire anche la possibilità di espressione di questi giovani è di queste ore la creazione di un mi hanno detto che tecnicamente si profilo instagram e quindi non sbagliamo perché altrimenti veniamo bacchettati dai nostri utenti profilo instagram generazione giovani di cosa si tratta generazione lombardia caro pierre anche qualche volta mi sbaglio direttamente ti perdono perché anche qualche volta mi sono confuso nei giorni corsi generazione lombardia sono loro sono i giovani di regione lombardia dai 15 34 anni che attraverso questo profilo instagram appunto hashtag generazione lombardia hanno la possibilità di conoscere di condividere di raccontare di ricevere ma anche di trasmettere tutto quello che li riguarda dai bandi alle esperienze ai progetti eccetera diventa un luogo virtuale di conoscenze di scambio di esperienza rispetto alle tematiche delle politiche giovanili in generale del mondo dei giovani è partito ieri siamo già quasi a 800 follower quindi un numero assolutamente significativo e la cosa bella che abbiamo il contratto ieri oggi ma siamo certi che nel tempo continuerà ad aumentare in maniera esponenziale e l'entusiasmo la voglia davvero l'energia che i giovani hanno nello scambiare contenuti dove noi poi raccontiamo anche le storie dei giovani che così si rendono protagonisti su un canale regionale quindi per loro è anche un motivo di orgoglio e quindi oltre ai canali più tradizionali che si usano per condividere le proposte di legge le politiche diciamo delle in cambiato giovanile utilizziamo anche un canalista dove regione lombardia comunica ma devono essere anche i giovani a comunicare a trasmetterci quello che loro pensano abbiamo detto anche ieri mandateci le vostre idee i vostri progetti anche le vostre critiche magari perché insieme dobbiamo trovare la risposta migliore e se noi pensassimo in regione lombardia di occuparci i giovani senza ascoltare quello che i giovani ci vogliono dire e quello che i giovani pensano andremo probabilmente fuori strada se ce lo dicono loro sicuramente viene più facile ecco quindi ribadiamo generazione lombardia aderite partecipate diventate follower anche perché adesso magari compie un'altra gaff ma non credo l'assessore bolognini è abbastanza smanettone e risponde personalmente quindi qualsiasi cosa voi pubblicate trovate una correlazione con l'assessore che in persona vi dà dei riscontri e risponde alle vostre richieste richieste che e andiamo verso la conclusione oggi sono state anche un po indotte dal presidente fontana troveranno la sintesi in quella che è la sua mission più importante nel breve periodo ovvero formulare una legge regionale sui giovani assolutamente sì una legge quadro che permetta di mettere a fattor comune tutti gli interventi in ambito di politica giovanili sono tanti gli interventi che regione lombardia con fondi proprio con fondi statali mette in campo per i giovani ci piace immaginare che possano essere questi interventi maggiormente raccordati tra di loro in modo tale che i risultati siano ancora più forti e poi tutta una serie di bandi pier ha ricordato la lombardia dei giovani poi c'è i giovani in cammino che un bando di oratorio lombardia 20 30 che è un concorso un bando che chiede ai giovani di raccontare su tecnologie digitali quindi con dei video la storia e le bellezze del proprio territorio insomma tanti interventi che permettono ai giovani di esprimersi rispetto alle loro capacità le loro potenzialità e anche davvero al loro entusiasmo che secondo noi è molto 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 positivo guarda pierre ieri in questo è un fuori programma ma lo racconto volentieri ieri in questa tappa che abbiamo fatto in questo oratorio di una periferia milanese in contemporanea c'erano il primo giorno di un centro estivo 150 ragazzi con alcuni fratellini che poi aspettavano uscita che sono tornati all'oratorio tanto tempo per fare l'oratorio estivo stare insieme crescere giocare socializzare e tanta la voglia e poi anche i primi o i secondi a questo punto allenamenti di una squadra under 15 di calcio e devo dire che dopo tanto tempo vedere non possono ancora fare la doccia lo sappiamo però insomma il fatto che i giovani possano tornare i ragazzi a giocare a stare insieme è davvero un ottimo segnale noi insomma nelle regole che vengono date per le riattivazioni queste attività di queste iniziative e sulle vaccinazioni insomma abbiamo permesso che questo avvenga in sicurezza e quindi siamo orgogliosi di vedere che grazie anche all'impegno di giombardia ci sia un ritorno forte alla normalità soprattutto per i giovani per i ragazzi che ricordo io sulla base di quello che stava raccontando l'assessore che sempre sulla nostra pagina facebook potete trovare un ampio servizio su quello che è accaduto ieri proprio a milano dove oltre alla descrizione che hai fatto ho visto anche delle ragazze con delle bellissime magliette pallavoliste che rappresentavano la schiacciatrice la palleggiatrice molto curioso molto bello e quindi anche nella pagina facebook di lombardia notizie potete trovare uno speciale che racconta la giornata di ieri io nel ringraziare i colleghi fabio benati tommaso gandola e giovanni binda che hanno collaborato alla realizzazione di questo speciale chiederei in regia a peppe meduri di rimandare generazione lombardia in sovraimpressione aderite aderite pagina instagram è importante connettersi è importante diventare follower perché le opportunità che vengono date ai giovani sono davvero molto importanti chiudiamo ringraziando l'assessore bolognini e dicendogli appunto di fare in fretta perché la lombardia aspetta una legge sui giovani assolutamente sì entro fine anno sarà pronta e ringrazio te pier e tutti quelli che ci stanno aiutando anche attraverso questa trasmissione i canali della regione a far conoscere quello che fa la regione lombardia che va migliorato ma è già tanto e davvero ha anche degli straordinari ritorni e quindi sono assolutamente contento e orgoglioso di questa sfida che abbiamo iniziato arrivederci e grazie grazie a tutti buona giornata grazie a tutti